Mi chiamo Stefania, vengo su questo lato del fiume e non sull'altro perché mi piacciono molto i posti più tranquilli e soprattutto quando devo fare dei lavori, in questo momento infatti sto lavorando per la scuola e questo posto è molto rilassante, mi permette di lavorare, godendomi anche l'ambiente e questo lato del fiume è molto bello anche dal punto di vista ambientale, naturalistico, molto ricco e molto gradevole. Grazie Grazie